Cosa gli vuoi dire? C'è pure da parlarne. New Vintage, attenzione qua, io lo sento, lo sento che triggero tantissimi di voi, con questo V5.5. Assolutamente un bel 9. Il nuovo, forse uno dei peggio che si trovano sul mercato Rolex, per i miei gusti, 4.5. Ciao, sono Jack, benvenuto su Into the Limelight, cioè alla ribalta. E quest'oggi sotto l'occhio di bue ci sono i Rolex, i Rolex Vintage. Quattro cifre, anni 60, 70, 80, altrizio, vetro plexi, per poi passare ai neo-vintage, gli anni 90, gli anni 2000, il passaggio dal trizio a Luminova, Superluminova, eccetera, eccetera, vetro zaffero, fino ai moderni, chiamiamoli così, gli orologi contemporanei di Rolex, 6 cifre, cassa più grossa, tutto maxi. Più o meno, prendetele con le pinze queste definizioni, non siamo qua a fare i tecnici, è un video un po', diciamo, leggero. Darò i voti, i miei voti, per ogni modello di ogni epoca. Insieme vedremo quale epoca mi piace di più, facendo i conti, facendo il totale di vintage, neo-vintage o youngtimer, che dir si voglia, e moderni. Ovviamente sicuro che mi dimenticherò di qualche modello, o sbaglierò, incrocerò epoca. Insomma, scrivete qui sotto nei commenti tutto quello che pensate di questo video e date assolutamente i vostri voti. Disclaimer, prima premessa, questo è solo un giochino per divertirci tutti insieme, me in primis. Non sono qua a giudicare le scelte di nessuno, sto solo dicendo le mie scelte soggettive. Non faccio video super tecnici, lo sapete, quindi tutti i miei video sono molto soggettivi, è quello che penso. E questo infatti riguarda la mia seconda premessa. Ovviamente non toccheremo gli orologi Rolex dal punto di vista della tecnica e della meccanica. È ovvio che gli orologi moderni sono fatti meglio, i braccialetti sono fatti meglio, i materiali sono migliori, le casse più resistenti al tempo, diciamo così, i movimenti sono più resistenti, funzionano meglio. È ovvio. Appunto, ma come dicevo prima, dato che stare qui a paragonare orologi e modelli di epoche diverse, in senso puramente tecnico, mi suona divertente quanto leggere il libretto di istruzioni del mio nuovo mobile Ikea in svedese, chi si aspetta un video oggettivo e non soggettivo è meglio che cambi canale. Allora, prendo il mio computer per dare un occhio che mica me li ricordo tutti a memoria. Comunque, partiamo! Air King! Air King Vintage. Assolutamente un bel nove. Infatti è l'orologio scelto, quello vintage Air King, da un grandissimo del cinema hollywoodiano, un attore che mi piace tantissimo, Ryan Gosling. Nove, assolutamente. Neo Vintage, un po' meno, un po' buttato lì. Hanno il loro fascino, per chi vuole un orologio 34, non moderno. Sette e mezzo. Il nuovo, forse uno dei peggio che si trovano sul mercato Rolex, per i miei gusti. Quattro e mezzo. Benché abbiamono messo il numeretto zero prima del cinque, rendendo il quadrante più simmetrico, ci hanno messo troppi anni per capirlo, benché abbiano messo le spallette della corona di carica. Bah, vabbè, ok, bravi. Air King nuovo mi piace solo perché c'è la corona Rolex in giallo e la sfera dei secondi in verde e hanno mantenuto la scritta vintage. Però l'orologio, niente, ne esce un po', quello vintage, ne esce un po' diatturpato e sicuramente il vincitore di questo round. Dayjust. Dayjust. Forse, anzi, quasi sicuramente l'orologio Rolex, che in tutte le epoche è bellissimo. Ed è rimasto bellissimo e sono riusciti a non distruggerlo. Forse solo il 41 moderno, ecco, con quella lunetta gigante che sembra un disco volante. Forse lì... Comunque, vintage. Dayjust vintage, nove, assolutamente. Neo vintage, un pochino meno, otto. Però mi piace, mi piace. Bella estetica, bello ci sono... Poi, Dayjust sono fighi perché sono per tutti. Nel senso che ce ne sono di mille colori, potete fare mille scelte. Ce ne sono veramente tanti. Quello moderno, otto e mezzo, direi. È uno dei Rolex moderni che mi piacciono di più a catalogo. Non il 41 sicuramente, ma il 36 è una perla. Sia... Io non sono amante del bracciale Jubilee, però il bracciale Dayjust con bracciale Jubilee, lunetta piatta, lunetta liscia e quadrante blu, per esempio, uno di quelli più affascinanti, secondo me, ha anche bracciale Oyster e lunetta zigrinata, per esempio. Mixer è le cose. Lunetta zigrinata e Jubilee, ecco, non fanno proprio per me. Comunque, otto e mezzo. Daytona. Daytona vintage. Cosa gli vuoi dire? C'è pure da parlarne. Il Paul Newman e tutti gli altri sono... Cioè, quadranti pazzeschi. Less is more. Quante poche cose ci sono scritte sul quadrante di un Daytona vintage. Perché dopo hanno iniziato a scrivere un libro di testo? A capitoli? Perché? Comunque, vintage 10. New vintage. Ah, attenzione. Qua io lo sento, lo sento che triggero tantissimi di voi. Con questo voto, 5 e mezzo. Neo vintage 5 e mezzo, perché il tutto acciaio proprio non mi va giù. La ghiera in acciaio... Non mi va giù. Non mi è mai piaciuto, non mi piace, non mi piace l'estetica di quell'orologio. 5 e mezzo, scusate. Nuovo. 9. Ghiera in ceramica per me affascinante. Il panda, soprattutto, è pazzesco, secondo me. Pure quello col quadrante azzurro e cioccolato e anche l'Oyster Flex magari al posto del bracciale Oyster. Mamma mia. Un altro dei migliori Rolex sul mercato oggigiorno. Introvabile, ok. Sono scesi i prezzi dai reseller, diciamo. Comunque bellissimo. Explorer 1. Vintage. 9 e mezzo. Bellissimo. Questo è un altro come il Datejust, l'Explorer 1, che secondo me rende benissimo in ogni epoca. Io ne ho fatto un video, ve lo lascio qua sopra, andatevelo a rivedere, parlo della storia dell'Explorer 1. Comunque, 9 e mezzo il Vintage. Il Neo Vintage. 9. Questo è del Neo Vintage o Young Timer del 2006. Regge benissimo i suoi 16 anni di vita. C'è già lo zaffero, non ha più il trizio. È 36 ancora. Poi magari il 39 Neo Vintage, ecco, quello fa scalare un po' il voto, diciamo. Però mi piace sia con questa font molto moderna, molto contemporanea, sia il Vintage con il 369 vecchio stile. Quello nuovo do 8 e mezzo, perché l'ho già provato, devo farne non una recensione, ma voglio fare un video di paragone tra il mio e quello nuovo che è uscito adesso, che sono tornati finalmente a 36 mm. Altro mio video, che metto qua sopra. Comunque, c'è qualcosa, se avete già visto il video di Pasquale, di PSQ Watches, io ho trovato gli stessi difetti in quello nuovo. Bracciale, clasp, quindi 8 e mezzo. Però, 9 e mezzo, 9, 8 e mezzo, uno dei modelli che si difende meglio nel tempo. Explorer 2 L'avevo già detto nella recensione del mio Tudor Black Bay Pro, di nuovo, vi triggerò tantissimo con questa cosa. So che è uno degli orologi preferiti da Matteo Frattini. Tra l'altro, a proposito, braccialetto Union, Ultra Union. Se ne sono rimasti, prendetelo perché è fighissimo. Con riferimento al calibro 3-2-1 del Moonswatch, stavo dicendo. Ah! Moonswatch, stavo dicendo. No, 3-2-1 del vero Moonswatch. Comunque, dello Speedmaster. Passiamo, torniamo all'Explorer 2. Il freccione non mi è mai piaciuto tantissimo, però ne riconosco l'importanza del design, ok? Vintage, gli do un bel 8. Però ho superato, forse l'unico orologio Rolex che Neo Vintage e Young Timer mi piace di più del Vintage. Do 9. Do 9 al 1.6.570. Mamma mia, io sono terribile con le referenze. Non mi ricordo nulla. Insomma, vabbè, 9. Per me il Polar è uno dei Rolex Young Timer degli anni 2000, prima dell'anni 2000, degli anni 90 e anche dopo. Migliori usciti. Il nuovo do 7.5, perché secondo me è un po' sproporzionato, come un po' tutti i Rolex moderni. Non sono solo grossi di diametro, che è quello che è i 40, 41. Fateli grossi quanto volete. Sono sproporzionati. Quella freccia mi sembra troppo grossa, è tutto bold. Gli indici sulla ghiera, i numeri sulla ghiera sono in bold. Sono troppo neri, troppo grossi. Pure l'outline delle sfere. Sembra come se avessero schiacciato il grassetto, il bottone B di Ward e abbiano fatto l'orologio. Comunque, 7.5. Passiamo al GMT. GMT, vintage, come il Daytona. Imbattibile. Anzi, forse è meglio del Daytona. A me piace tantissimo, anche con le colorazioni diversissime che assumono negli anni, negli anni che passano, le ghiere dei GMT. Sono pazzeschi, secondo me. Dattate un'occhiata a questi, incredibili. Il Neo Vintage, 8.5. Mi piace, tra l'altro, più il Coke del Pepsi. Strano, ma mi piace più quello, appunto, nero-rosso, un Coke. O sennò tutto nero. Nuovo. Niente, siamo le solite. Qua è un 5.5. A me il Pepsi nuovo, con quei colori sgargianti sulla ghiera, che è viola, non è più un Pepsi, perché è viola, fucsia, non è neanche più rosso e blu. Boh, non lo so, quello verde per i mancini, per i mancini, vabbè. No, non mi convince per niente. Mi convince la ghiera in ceramica, il Batman non mi piace. Scusatemi, scusatemi. Qui sotto nei commenti per insultarmi. Milgauss. Milgauss qui è strano. Praticamente non esiste una versione neo-vintage, young-timers. Quindi do 10 alla versione stra-vintage, quello che somigliava un po' al Submariner dei primi tempi. Vintage 10. Uno degli orologi meglio riusciti di Rolex. Se lo rifacessero, andrei domani a mettere le tende per comprarlo anche fra 12 mesi. Ma se rifacessero questa versione nuova che vi faccio vedere ora, incredibile. Non mi ricordo la referenza, come al solito. È talmente lontano dalle mie aspettative quel Milgauss che non conosco nemmeno la referenza. Fate voi. Il nuovo è molto diverso dal Milgauss di una volta, ok. Forse quanto l'Air King nuovo è diverso dall'Air King vintage, ma il Milgauss nuovo, a parte che è gigante ed è grosso, però è una pazzia, ma incredibilmente mi piace. Do un 8 perché, non lo so, mi piacciono i colori, mi piace l'audacia di Rolex col Milgauss nuovo. Un grandissimo sempreverde ora, l'Oyster Perpetual, che come un po' il Datejust, in tutte le sue epoche, ha dato il meglio di sé. Vintage 9. Forse mi piace di più l'Air King di una volta, ma anche l'Oyster Perpetual era pazzesco. Il Neo Vintage Don 7. Assolutamente un Rolex, fra virgolette, a buon mercato, se così si può parlare. Dateci un occhio perché sono gli ultimi Rolex, gli ultimi modelli Rolex rimasti ancora abbordabili. Comunque è bellino. Se non volete un orologio gigante, è un 34, c'è anche la versione Date. Il nuovo per me è uno dei migliori Rolex su mercato ora, insieme al Datejust. E l'Explorer, e il Daytona però, il Daytona, ciao. 9 ha la versione moderna dell'Oyster Perpetual. A me piaceva tantissimo in 34, anche 36 ha il quadrante strano, diverso, gli indici raddoppiati a 369. Boh, hanno fatto una cosa particolare. Anche 39, per chi ha i polsi grandi, è quello bianco. Stupendo, ma anche nero mi piace. Non mi piacciono le versioni corallate, oppure tiffanate. Beh, quelli non mi piacciono tantissimo. Comunque, grande classico, Submariner. Uno dei Rolex più fighi vintage. 10. Volevo dare 12, però posso dare solo 10. Quindi diamo 10 su 10 al vintage Submariner. Al Neo Vintage do un 8, perché secondo me il 14 060, altrizio, grandissimo in futuro, segnatevelo. Ve lo sarete già segnati, è già partito oltre i 10.000 euro. Nel 2018 stava a 4, 5. Vabbè, come tutti. Il nuovo do 7, perché benché sia più proporzionato del maxi, maxi, maxi di due anni fa, tre anni fa. Comunque, beh, troppe cose scritte sul quadrante. Siamo sempre lì. A me piace il 14 060 due linee, se poi un 5 5 1 3, 5 5 1 2, vabbè, insomma. Lì torniamo ai vintage 10, Neo Vintage 8. Moderno do 7. Ultimo modello, Sea Dweller. Stesso discorso del Sub. Vintage 9. Il, come si chiama, Total White, All White, tutto bianco, bah. Non mi ricordo più, però, bellissimo. Scritta rossa, Submariner, scritta rossa, bah. Sea Dweller, Vintage, 9. Neo Vintage. Diamo un 7. 7 al Neo Vintage, quello nuovo, orologio sbagliato, secondo me. Hanno messo la lente magnificatrice, che io ho tolto dal mio Datejust Buckley, per dirvi quanto mi piace. 5 e mezzo. Moderno, hanno fatto, hanno rimesso la scritta rossa, ok, ci sta. Però hanno messo anche la lente, che è molto strana, tra l'altro la data è una posizione strana, perché il movimento hanno allargato l'orologio. Adesso, hanno fatto su un casino. Il Deep Sea, bah, non lo so, non è un orologio che è nelle mie corde. Ecco il totale dei voti. Vintage, siamo a 93.5. Neo Vintage, 79.5. Moderno, 73. Vince, Vintage. Secondo posto, Neo Vintage. Terzo posto, Moderno. Questa è la mia umile interpretazione, personalissima. Comunque, ho fatto questo video per farvi sfogare qui sotto nei commenti. Ditemi tutto quello che volete. Ho dimenticato il Day Date, ho dimenticato lo Sky Dweller, ho dimenticato un sacco di orologi, lo Yacht Master, vabbè, Yacht Master 2. Orribile. Comunque, i vostri voti, voglio i vostri voti qui sotto, voglio il vostro like se vi è piaciuto questo video, voglio che vi iscriviate a questo canale, voglio raggiungere i 10k, i 10.000 iscritti. Ciao, alla prossima.